Contento di questo e la destra sulle chiusure ha cambiato idea? No, per nulla. Ovviamente non sono contento che chiude, ma il fatto che chiuda vuol dire che bisogna chiudere, quindi c'è poco da essere contenti o scontenti. Bisogna fare così. Quel anche è riferito al fatto che c'era un dubbio su che strada avrebbe preso Draghi nell'affrontare la pandemia. Mi sembra di capire che prende la strada della grande cautela, del massimo rigore e quindi è una buona strada evidentemente. Ma non pensi sia la strada giusta? Sì, assolutamente. Di fronte a questi numeri assolutamente sì. Ma siccome c'era il dubbio che noi ne prendessero una diversa, prendiamo atto che continua sulla via del rigore. Anche perché la cosa che aspettiamo di capire da Draghi è se invece cambierà strada su come assistere chi è vittima delle chiusure. Parlo degli imprenditori, dei commercianti, eccetera. Adesso a questo ci arriviamo anche perché abbiamo qui un rappresentante del mondo dell'imprenditoria. Scusa Alessandro, siccome tu hai preso il Covid asintomatico, ma sei ancora positivo? No, sono negativo, sono negativo e quindi per certi versi mi è andata bene, nel senso che sono semivaccinato. Sei semivaccinato, certo, e soprattutto se è stato asintomatico. God Lerner Allora